Ciao sono Marco Caggiati il fitness coach delle donne e ideatore dell'accademia online bella in forma per sempre. Ti do il benvenuto in questo allenamento della durata di 10 minuti andremo a lavorare tutto il corpo senza attrezzi e prima di cominciare ti consiglio di fare tre cose iscriverti al canale attivare la campanellina per non perderti nessun nuovo allenamento e se ti piacerà questo allenamento lasciare un like un mi piace perché fa sempre piacere ma ora bando alle ciance e diamoci dentro Grazie per la visione! 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti